Il libro di oggi ha un titolo curiosissimo che può sembrare anche difficile, anzi addirittura ostico. Si chiama Retrotopia. Che mai vorrà dire? È di Zygmunt Bauman, il grande sociologo di origine polacca recentemente scomparso. Retrotopia è il contrario di utopia. Utopia è un ideale religioso, sociale, politico, che è lontano, che magari non si avvererà mai e che resta appunto come ideale. Retrotopia è quando l'utopia che guarda verso il futuro si rivolge invece al passato. Che dice Bauman? Dice che noi viviamo in un'epoca in cui la fiducia verso il futuro, che è la spinta vitale, è ormai stata sostituita da una generica e spesso immotivata nostalgia verso il passato. Ora, che gli uomini abbiano sempre sognato mitizzandola una età dell'oro dalla quale venivano nel lontano passato in cui tutto andava molto bene, è un fatto. Oggi ha assunto un connotato economico e sociale molto più preciso, proprio perché i segni di incertezza del presente e dunque del futuro si sono, dopo la crisi del 2008, si sono infittiti. Lui, Bauman, porta avanti il suo ragionamento, come sempre lucidissimo, attraverso una serie di esempi. È molto impressionante per esempio quello che riguarda l'Europa. La crisi di fiducia verso l'Europa è arrivata al punto tale che l'Europa è stata addirittura incolpata da alcuni movimenti politici non molto responsabili della crisi scoppiata appunto nel 2008. Ma, dice Bauman, attenzione, quella crisi dipende da una serie di motivazioni molto complesse che riguardano la globalizzazione e la finanziarizzazione dell'economia. Il massimo che si può dire è che l'Europa non ha saputo gestirla bene, non che l'abbia provocata. Un altro esempio che lui fa è quello della sfiducia verso i vaccini, cioè lui racconta quali sono le tante cose che ci hanno intimorito e riempito di paura dalle quali, purtroppo, alcuni movimenti non molto responsabili cercano di trarre vantaggio.